Ragazzi, benvenuti e bentornati su Final Fantasy X. Andiamo a cercare Yuna. Dovrebbe essere nella sala degli invocatori, a detta di Riku, quindi andiamo. Per sbaglio nello scorso episodio sono uscito invece di andare avanti, per sbaglio, ma non importa. Anzi, meglio così così ho potuto salvare. Eccolo, abbiamo già aperto. Vabbè. Si può fare, no, non si può più fare. Devo uccidere lui. È l'unica. Devo uccidere prima lui, poi far ritornare in sé Lulu. Che tanto è una cazzata. Ok, a morì è morta. Attaccate Lulu, per l'amor di Dio. Madonna, oh. Una volta che devono attaccare un personaggio specifico non lo fanno. È mancato, ovviamente. L'attacco qua, Auron. No. Grazie. Allora, andiamo di blizzare. Ok. Muore. Muore. Lui dovrebbero avere 2000 di vita, una roba del genere. Bene. Morto. E ciao. Bene. Va, sbrighiamoci. Potrei pure potenziarli, ma non è il momento adesso. Via. Capirà qui il labirinto. Ah, eccolo il punto per salvare. Ne ho sprecato pure le pozioni. Madonna. Sarà di qua? will. Sì. no Come si può essere così? Io non capisco perchè laghi così in determinate zone eh Ed è un problema proprio del gioco Questa è la cosa incredibile Capirai questi quando cazzo li fanno fuori Vai un attimo entro a Titos per capire qual è il punto debole Nessuno Non c'è punto debole C'è solo resistenza e basta Io ammazzo prima lui perchè è quello che rompe più i coglioni Caproio Meno male Che palle oh Che palle Non è possibile È rimasto con due punti vita Tre scusate Ok Penso lo stesse facendo a Lulu E tanto questo glielo fa a Lulu Sicuro Non so perchè a Tauron Non importa Immediatamente Extra pozione O mega pozione Favamo mega pozione Che serve a tutti serve Arcano Quasar Buttiamone via uno Ciao Ciao Attacca Lulu Attacca Lulu Per dio Ok Molto colpirà pure Lulu Se sveglierà No Vabbè Adios Carica assalto Tanto ce n'è uno solo Ok Grazie Lulu Sei ancora svegliata Lulu È incredibile Favamo gran pozione Poi Un pozione Auron Dai che l'abbiamo ucciso Ora è morto Bene Andiamo avanti Eh infatti No Lei Dar Che è un'unico Il An Alvedo An Il La Il Il No Il Quelle Pagano Siff Va Che Ma Va Vedo Per Grazie a tutti Qu'è chiudere? Qu'è chiudere? Allora, io non so perché sia partita Zanarkand in sottofondo e non so se Final Fantasy X aveva due dischi, se avessi avuto due dischi probabilmente questa sarebbe stata la fine del primo, credo. Sarebbe stato ottimo, azzeccato. Vedo che comunque Waka, mi fa piacere vedere che sta cominciando a capire un po' di più le... non tanto le motivazioni degli alber, ma sia a capire un po' di più che è sbagliato dargli contro, a prescindere tanto perché sono definiti eretici, e comincio anche a capire che magari il suo credo non era poi tutto questo granché. Non valeva la pena, forse. Vediamo. Vediamo. Sì 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 Quindi che si fa? Torniamo da Seed a questo punto La nave l'abbiamo esplorata Ok Ok Ok, ok. Ok, ok. E... parte... cioè che era mezza Albed. E non mi ricordo se avesse accenato al fatto che Sid fosse suo zio. Ecco perché con Riku... Cioè, l'hanno fatta diventa guardiana così, dal nulla, come se niente fosse... Perché sono cugine. Sid è lo zio di Yuna. Riku è la cugina di Yuna. Bene, adesso è tutto più chiaro. Solo che... cosa facciamo? Già... già, Wakka. In parte. Mi dispiace, Wakka. Eh, sarà difficile convincerla. Speriamo che Yuna... Yuna gli lasci il pellegrinaggio. Penso dicesse questo. Bene. Sid dov'è? E se è Sid. Auron. Eh, che facciamo però? Trovato Yuna? Eh, no, eh. Sì. sono i nostri. so ho zanio ossan ite gare わかってるのかコゾ bburu no boe moa a anpa jone なんだよ sanz bbitte no ga so coni ulera ga iru dapparata steh sick son dacessio fai farsi a year pieno bbela ken o l'abbé E' un po' di livelli da fare. Dove devo andare con Tidus? E qua? Fatemi un attimo vedere. E qua c'è la potenza magica. Oh, va a dire. Sì, facciamolo andare qua. E poi qui. Poi Auron. Mira, potenza magica, dipesa fisica. Sarebbe il caso di... Aspetta. Di portarlo qui. Non posso. Possiamo usare... Empatosfera. Trasporta nel punto dove è un alleato. Ah! Poi Lulu... Lulu... Lulu qui, giustamente. Se invece avessimo fatto andare di qui... Che cosa c'era? Protect. No. Ok. Poi, Kimari... Kimari... Ok. Parico. Spostiamo qua. Spostiamo qua. Bene così. Salviamo. Come siamo messi. Ok. Abbastanza bene. Me lo sentivo che era ancora vivo. Cioè? Spostiamo qua. Spostiamo qua. Spostiamo. Placiamo. Spostiamo. Spostiamo. La vedo dura Purtroppo si E sembra anche contro la sua volontà In acqua C'ho immunotuono Questa non è che serve proprio Forse l'armilla Nettuno è meglio Gli serve a parafire o paraidro Ah si Non importa che diminuisca La perforazione con l'attacco Non è l'onettuno Attacco magico 20% Però Insomma Devasta torre Bracchio Targa titan Beh ora che andiamo sott'acqua Non so se la targa titan Vabbè Sto zitto Sto zitto Allora andiamo avanti Molti assist Attacco Via ricercatore Già attacco Vaco attacco Torno attacco Palla dai Mio pallone Mettiamo l'altro bomber Ma si lasciamo questo Mettiamoci lo scudo Nettuno Dai Ora che ci abbiamo meno HP Ci difendiamo dall'acqua E ci prepariamo appunto Ad attaccare con Roba che faccia danno da tuono Mi devo cambiare la spada però qui Spadatonum E richiede una modifica però la spadatonum Spot Perforazione Attacco fisico Attacco magico M Nero sfera La vogliamo consumare per fare La spadatonum Eh non lo so Non lo so se voglio Facciamolo del 3% Ok A risalvo E andiamo Io e Sid siamo sulla stessa lunghezza tonda Scusa non volevo distrarti Eh quindi che facciamo Ah vi siamo pure co Solo Non lo so Ehm, solo che ora ci siamo equipaggiati per attaccare i nemici in acqua. Contro un attacco? Che cazzo ci facciamo nei contro di loro? Facciamo una cosa. Facciamo incentivo. Attacchiamo... Anzi, mettiamo un haste. Bizzaro. Bene. Ottimo. Dai, dai. A breve dovremo salutarci. Ok. Esattamente dov'è che dobbiamo andare? No, grazie. Sì, sì, va bene. Andiamo. Ok. Oh, Gesù. Meno male. Potremmo i trace a noi stessi. Antima. Antima. Cosa fa Antima? Non mi ricordo. Facciamo Tundara. Madonna. Perché poi non possiamo più vedere... Ah, beh, perché non abbiamo più la spada di Titus. Trionfo. Ok. Bene. Ah, devo vedere che fa Antima. Toglio un quarto di HP e mi... Uh, a posto. Cioè, a posto. Buono a sapersi. Andiamo. Qui ci sarà qualcuno? I... No, che dice? Sì, i... Impugnerò anch'io la spada e mostrerò a loro chi sono gli Albed. Ok. Pensateci poi, allora. Qui salviamo. Sarà una... Sarà una battaglia difficile. Porta... Porta di questo. Ok. Oh. Naganaganagan mi mano da. Uwa! Deca! Nani aree? Evon Shigoryu. Efreie. Sebe Vorki a vorrei. Bisogna fare. Con la facecam ragazzi Vabbè Prima o poi doveva succedere E' successo al Che è il ventesimo episodio questo Ma forse il diciannovesimo Comunque noi a breve Dovremmo salutarci quindi non so se è il caso No non credo Se è il caso ragazzi Allora sviluppiamo Titus giusto di uno Tanto possiamo Dobbiamo prepararci per questa boss fight quindi Sì ciao Ludo Bene Dai che presto Arriveremo a A Hidroga, Tundaga, Brizaga e Firaga E lì chi cazzo ci ferma più Ah de Tanta tanta roba Vediamo un po' dove si arriva poi Ultima Minchia Ultima infatti è protetta da Ben 4 blocchi di livello 4 Bi magia Stiamo arrivando a delle magie Veramente molto 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 interessanti Abbiamo sviluppato tutti quelli che potevamo sviluppare Bene Allora salviamo Ragazzi Questo è stato un episodio veramente ricco di Emozioni Per aver appreso appunto la triste verità Che Yuna purtroppo è destinata a morire E siamo su un'aeronave ragazzi Abbiamo finalmente Avuto modo di conoscere Seed In realtà l'abbiamo conosciuto nello scorso episodio Però adesso Ancora di più Io vi ringrazio per l'attenzione Per la visione Per la compagnia E per il supporto Come sempre E noi ci vediamo Al prossimo episodio Di Final Fantasy X Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti